A Melfi una guardia giurata di 33 anni uccide la moglie di 27 e poi si toglie la vita. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Potenza. Nuova governance, platea unica e giornate lavorative uniformate. Parte il progetto di rilancio per il settore della forestazione che in Basilicata interessa una platea di circa 4.000 persone. Il bilancio della regione fa acqua da tutte le parti per l'esercizio 2016 non superate molte delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti. Un movimento politico che parta dal ruolo attivo delle donne e questo è il progetto che la giurista di Senise Silvana Arbia rilancia in vista delle regionali. Potenza in Serie C, il Matera alle prese con i problemi economici per mantenere la categoria, intanto in Lega Pro si studiano novità per rilanciare il campionato di terza serie. Matthew Lee girerà il suo nuovo videoclip a Satriano di Lucania, l'artista arriverà nel Melandro venerdì prossimo. Buon poveriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Lo avete sentito dai titoli tragedia a Melfi dove una guardia giurata di 33 anni ha ucciso la moglie di 27 e poi si è tolto la vita. Il movente potrebbe essere legato alla sfera sentimentale della coppia sposata da meno di 7 mesi. Si erano spostati circa 7 mesi fa, lo scorso 23 ottobre, Antonio Girardi e Marina, Novo Zilova, 27enne di origine ucraine, ma pare che il loro matrimonio fosse già in crisi. In piena notte, quando ancora non aveva completato il suo turno di lavoro, l'uomo, guardia giurata, è tornato a casa, si è recato in camera da letto ed ha ucciso la moglie, e forse ancora a letto sparandole almeno due colpi di pistola. Poi con la sua stessa arma d'ordinanza si è tolto la vita. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, allarmati dal fatto che Antonio Girardi, dopo aver effettuato un intervento di sorveglianza richiesto dalla centrale, non rispondesse più al telefono. A quel punto si sono recati a casa del 33enne e hanno allertato i familiari della donna, che vivevano al piano di sopra. Poco dopo la macabra scoperta. L'omicidio-sucidio è avvenuto nella casa dove i due abitavano, in Bicogelso, nei pressi della Porta Venosina, nel pieno centro storico della città federiciana. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando Provinciale di Potenza. Sul posto anche il PM di turno, Veronica Calcagno, che ha già disposto l'autopsia sui corpi dei due coniugi. Il movente potrebbe essere legato alla sfera sentimentale della coppia, ma gli inquirenti stanno ascoltando i familiari della donna, la sorella e il marito di quest'ultima, arrivati da poche settimane in Italia per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. Oggi l'autopsia sul corpo di Antonietta Ciancio, la 68enne uccisa la scorsa settimana a Sapri dal marito. I funerali della donna, ex insegnante in pensione, si terranno domani a San Severino Lucano, suo paese d'origine. Il marito, 75enne Gabriele Milito, accusato di omicidio volontario, si trova in carcere a Potenza. L'uomo ha sempre detto che il colpo che ha ucciso la moglie era partito accidentalmente mentre maneggiava una pistola, ma la versione non convince gli inquirenti. Ai funerali di Antonietta Ciancio, vittima di femminicidio, parteciperà anche l'associazione Telefono Donna. Le eseque si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Severino Lucano. Voltiamo pagina, parliamo del progetto di rilancio per il settore della forestazione che in Basilicata interessa una platea di circa 4.000 persone. L'intesa è stata siglata in regione. Ce ne parla Michelangelo Russo. Un cambio di passo atteso da anni dai sindacati e dagli addetti alla forestazione. Circa 3.400 operai avranno un incremento importante di giornate con la certezza della puntualità dei pagamenti. L'intesa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale per l'anno 2018, siglata dalla Regione con le rappresentanze delle sigle sindacali FaiCISL, FaiCGL e WillaWill, sembra porre fine, finalmente, alle polemiche che da anni accompagnano il settore della forestazione tra disparità di trattamento e erogazione delle mensilità a singhiozzo. Il progetto di rilancio prevede l'accorpamento in un'unica platea di tutti gli addetti che insistono nel settore forestale e un solo progetto che consentirà la velocizzazione delle procedure e l'ottimizzazione dei risultati. Il minimo delle 151 giornate per tutti gli addetti della platea unificata, il turnover, le cui procedure inizieranno nel 2018 e si attueranno a partire dal 2019 e che riguarderà 500 unità da assumere entro il 2021, l'attivazione di un soggetto unico, il Consorzio di Bonifica, per la gestione con il conseguente superamento della frammentazione amministrativa, la realizzazione di un progetto speciale per i forestali ricadenti nelle aree ricomprese, nella legge 40 per un minimo di 10 giornate lavorative e infine l'apertura del tavolo per la rideterminazione del contratto di secondo livello. Le risorse economiche necessarie ammontano a oltre 58 milioni di euro che si sono rese immediatamente disponibili dalla manovra di bilancio in fase di approvazione per l'annualità 2018. Poniamo fine, affermano orgogliosi il presidente Pitele e l'assessore Ramo Braia, alle incertezze sulla forestazione, al tira e molla sulle giornate lavoro. Con il progetto condiviso con i sindacati diamo certezze agli addetti e strutturiamo il comparto. È una svolta importante a beneficio dei lavoratori. Per parlare della rivoluzione del settore forestazione abbiamo ospitato nei nostri studi il commissario del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, ospite di News. Lo ha intervistato il nostro direttore Donato Pace. Allora ascoltiamo qualche passaggio dell'intervista nel prossimo contributo. Il settore della forestazione fino al 2017 era composto dalla legge 42, quindi dalla forestazione classica, dal progetto speciale Vie Blu, dal progetto speciale Green River, dal progetto speciale IVAM e dal progetto speciale Parco del Pollino. Quindi come puoi immaginare queste platee così articolate e frastagliate sul territorio, soprattutto poi per quanto riguarda la forestazione classica, gestita da sette aree programmi, dai due comuni capoluove, dalle due province, portava ovviamente ad una criticità proprio strutturale oltre che organizzativa. Invece adesso con un unico soggetto, con un unico progetto e con un'unica platea è molto più semplice anche dal punto di vista procedimentale e amministrativo procedere al pagamento, ma soprattutto è fondamentale l'appostamento in bilancio dell'intera posta. Questo fa sì che i pagamenti possano avvenire con regolarità. Con questo nuovo modello la forestazione non partirà più come in passato, a giugno inoltrato, ma dovrà essere un'attività che si svolgerà 365 giorni l'anno a seconda di quelli che sono i bisogni del territorio, anche stagionali. Oggi percorrendo le strade della Basilicata si vedono gruppi di braccianti forestali. Sono molti e producono poco, ma soprattutto sono di una certa età. Ci sarà un turnover? Uno dei problemi è esattamente anche l'anagrafica del personale, perché il blocco del turnover che c'è stato in questi anni ha portato ad un fisiologico invecchiamento della platea. Si stima sulla base di quelle che sono le economie che si andranno a realizzare con la uscita dal lavoro, di chi raggiungerà l'età pensionabile, di poter assicurare un turnover di almeno 500 unità nel triennio 2019-2021. Restiamo in tema perché critiche all'accordo sulla forestazione arrivano dall'Unione sindacale di base della Basilicata. La regione Basilicata, si legge in una nota, continua a perdere tempo e non definisce ancora il ruolo dei propri dipendenti, in particolare quelli riferiti alle ex comunità montane aree programma. Si approvano leggi che sono in contraddizione con lo spirito e compiti della stessa regione. Così Francesco Castelgrande, coordinatore pubblico e impiego dell'USB di Basilicata, che precisa il personale è allarmato e in stato di agitazione, visto che a tutt'oggi nessun provvedimento è stato preso per definire i ruoli e le competenze delle ex aree programma. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Design e restyling di interni di Vito Coviello. Pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine e bituminose. Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza. Per informazioni 340 63 70 636 vitocoviello-hotmail.it Di Traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica. Con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di Traverso dal martedì al venerdì alle 10 e 30 e alle 15 e 30 negli studi della nuova TV. E naturalmente non mancherà il caffè. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla politica. Dopo gli scenari illustrati dal presidente Mattarella e l'ipotesi di un ritorno alle urne forse già a luglio ieri vetrina al Quirinale per il parlamentare lucano Salvatore Caiata che fissa i paletti a nome del gruppo misto. Sentiamo Celestino Benedetto. Fallito a meno di colpi di scena il tentativo di un governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, la crisi politica precipita verso le elezioni. Per la prima volta nella storia del Paese si potrebbe tornare al voto a luglio, magari la seconda o la terza domenica del mese, una prospettiva paventata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei colloqui con le delegazioni dei partiti al Quirinale e che viene rilanciata come alternativa ad un esecutivo politico o al governo neutrale proposto proprio dal capo dello Stato. Ieri, tra le delegazioni salite al Colle, vetrina anche per il parlamentare lucano Salvatore Caiata. Il deputato, eletto con il Movimento 5 Stelle ma poi escluso per l'indagine che lo vede coinvolto a Siena, ha partecipato ai colloqui con Mattarella in qualità di vicepresidente del gruppo Misto e coordinatore della componente MAIE, Movimento Associativo Italiane all'Estero della Camera, soggetto che raccoglie oltre a parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere anche gli esclusi dal Movimento 5 Stelle. E proprio al termine delle consultazioni, Caiata ha preso la parola nello studio alla vetrata del Quirinale. Poche parole con alcuni punti di contatto rispetto alle affermazioni di Luigi Di Maio, ma anche qualche presa di distanza. Abbiamo espresso la determinazione, la nostra convinzione che le forze politiche che hanno prevasto il 4 marzo debbano trovare con un grande senso di responsabilità un accordo per formare un governo politico. Porte chiuse poi ad un esecutivo tecnico. Non vediamo di buon occhio la formazione di un governo tecnico istituzionale perché sarebbe la sconfitta per le forze politiche e soprattutto per i cittadini che non vedrebbero rappresentato quello che loro hanno espresso il 4 di marzo. All'ipotesi di rialeggere il Parlamento con l'attuale legge elettorale piace ancora meno. Anche un eventuale ritorno al voto sarebbe sicuramente la strada più democratica ma riteniamo che nessuno debba arrogarsi il diritto di dire al Presidente della Repubblica quali siano le date migliori e soprattutto che andare a votare con la stessa legge elettorale non vediamo quale senso possa avere. Un movimento politico che parta dal ruolo attivo delle donne e questo è il progetto che la giurista di Senise Silvana Arbia rilancia in vista delle regionali. L'ha intervistata per noi Mara Risola. L'idea è quella di applicare alla politica e alla vita istituzionale l'atteggiamento del prendersi cura di qualcosa o di qualcuno, esattamente quell'indole di cui madre natura ha fornito le donne. Per cambiare meglio la Basilicata, per sganciarla, come dice, dalle catene del clientelismo e del favoritismo. La giurista senisese Silvana Arbia, dopo le politiche e la presentazione della lista al Senato con il simbolo SMS Stato moderno e solidale che ha ottenuto lo 0,5% dei consensi, riparte in vista delle elezioni regionali con un progetto che è innanzitutto una sveglia, una chiamata alla responsabilità per le donne lucane. Prendersi cura che sia degli individui, che sia delle istituzioni, del modello istituzionale, del funzionamento delle istituzioni, del controllo delle istituzioni, quindi prendersi cura che è un concetto che a noi piace molto e che troviamo moderno e proprio trova nelle donne, nell'approccio che la donna ha, nell'esperienza umana che la donna ha per sua proprio connotazione, trova nelle donne una particolare propensione, una particolare condizione favorevole. Arbia dichiara di essere disponibile al confronto ma non alla fusione con tutte le altre forze politiche. Non siamo per separatismi o per supposizioni di essere migliori, no, noi siamo perti, ma noi non ci fondiamo, non andiamo a fonderci in qualche cosa che non siamo noi, noi vogliamo rimanere quelli che siamo, avere un'identità. Con il Movimento 5 Stelle, la Lega e il Partito Democratico, ma quest'ultimo pone un freno per il Pittella Bis. Il Presidente della Regione, quindi un capo di un esecutivo a livello regionale, che alla fine, se andiamo a vedere, fare il bilancio è una delusione. Questo posso dire così. Torniamo alla cronaca. Affitti percepiti in nero e mai dichiarati. A Policoro la Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione fiscale per un totale di circa 350 mila euro. I controlli hanno riguardato le posizioni di numerose proprietà immobiliari. In particolare è stato riscontrato che diversi cittadini di origine straniera provenienti soprattutto da Romania e d'Albania, seppur inseriti negli elenchi dei residenti dei comuni di Nova Siris, Canzano, Policoro e Tursi non avevano alcun contratto di locazione. Nel prossimo servizio torniamo a parlare del bilancio della Regione Basilicata, che secondo la Corte dei Conti fa acqua da tutte le parti. Il servizio è di Alessandro Panuccio. Utilizzo delle royalties del petrolio, crediti diventati ormai inesigibili, spese eccessive per la gestione del personale, scelte finanziarie dalla scarsa redditività. Sono alcuni dei temi sui quali la Corte dei Conti continua a concentrare i suoi rilievi sul bilancio della Regione Basilicata. Dopo la mancata parifica del 2015, i giudici contabili avevano chiesto all'ente di Viale Verrastro di apporre dei correttivi, ma non sono bastati, come dimostra il recente passaggio alla gestione provvisoria, con la Regione in grado solo di pagare gli stipendi ai dipendenti e di far fronte alle spese correnti. Nelle conclusioni istruttorie formulate in vista del giudizio di parifica per il bilancio 2016, l'udienza è in programma nelle prossime settimane, i giudici contabili tornano nuovamente a bacchettare la Regione. Il rischio di una nuova bocciatura è molto concreto, a meno che non si riesca a superare in tempi rapidi tutti i rilievi. Tra i pochi passi in avanti, la risoluzione di alcune criticità nella gestione delle società partecipate. Per quanto riguarda il personale per la Corte dei Conti, le spese risultano in aumento anche nell'esercizio 2016, seppur in presenza di quattro dirigenti in meno. Sul fronte Royalty, i rilievi si erano concentrati soprattutto sul loro utilizzo per la spesa corrente e sulla mancata alimentazione del programma operativo Valdagri. Decine di milioni di euro che dovevano essere utilizzati per progetti di sviluppo dei comuni dell'area, in realtà mai messi in campo. Tra gli episodi di anomala gestione delle risorse regionali e del relativo patrimonio, la Corte dei Conti evidenzia quello relativo al campus FCA di Melfi e chiede alla Regione le ragioni che hanno indotto a costruire un immobile di 5,4 milioni di euro su un terreno di proprietà della SATA SPA, accordando a tale società il diritto di proprietà sul suddetto immobile, fino al termine del periodo concordato. E infine gli investimenti dedicati all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Esaminando i dati del triennio 2014-2016, si nota l'aumento della partecipazione della Regione nel capitale sociale della società consortile Aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Tale cifra passa da 998 mila euro nel 2015 a 1,3 milioni di euro nel 2016, circostanza che desta perplessità in termini di sana e razionale gestione delle risorse pubbliche, alla luce delle notevoli perdite registrate dalla società negli ultimi tre anni. Continui ritardi nel pagamento degli stipendi hanno costretto oggi allo sciopero il personale che svolge servizio di trasporto pubblico locale per conto della ditta autolinea Nolè. Qualche criticità dunque per lo stop programmato dalle 10.30 alle 14.30 di oggi. E siamo allo sport potenza in serie C, il Matera che prova a risolvere i problemi economici per mantenere la categoria e in Lega Pro si studiano novità per rilanciare il campionato di terza serie, il servizio di Luigi Santo Pietro. E' stato un confronto dialettico e proficuo, così il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo l'assemblea nella sede di Firenze, con 55 club su 56 per discutere di progettualità, sostenibilità e futuro della categoria. A tenere banco anche il commissariamento persistente della FIGC, di cui la raccolta di firme avviata in Lega Pro per una nuova assemblea. Le novità interessano ovviamente anche il club Lucane, il potenze appena stato promosso in serie C dopo la splendida cavalcata nel girone H di serie D. Il Matera, pur con tante difficoltà, sta provando a capire come risolvere i problemi economici per mantenere la categoria. Tra i temi discussi, quello delle risorse di cui Gravina discuterà col commissario federale Roberto Fabricini, 800 i giovani che si formano in serie C, e quello riguardante le seconde squadre, progetto avanzato dallo stesso presidente di Lega Pro. Da parte dell'assemblea c'è adesione, però bisognerebbe iniziare dal 2019-2020 perché servono regole e certezze fin dall'inizio ufficiale. L'assemblea ha votato sul format per la presenza dei giovani calciatori nelle rose. E' un progetto che richiede riflessione per la grande diversità di dimensioni tra i club di Lega Pro. Magari si potrebbe equilibrare la presenza degli over, abbassare l'età degli under e chiedere una sostanziale modifica per le valorizzazioni. Quanto alla di forma 60 squadre, non sappiamo se ci sarà dalla prossima stagione. Di certo, arriveremo a un numero di società sane e virtuose, anche perché le nuove regole saranno particolarmente severe. Comunque, ha concluso Gravina, quest'anno le penalizzazioni sono state inferiori rispetto al passato, malgrado qualche situazione assai critica. Matthew Lee girerà il suo nuovo videoclip a Satriano di Lucania. L'artista arriverà nel Melandro venerdì prossimo. Sentiamo Michelangelo Russo. La Basilicata sempre più location ideale per girare videoclip musicali. Matthew Lee ha scelto Satriano di Lucania per girare quello del suo ultimo brano. Il paese dei murales del Romita, del Pietrafesa e del Peperoncino ha incantato l'artista. Nei prossimi giorni il cantante italiano si recherà nel centro storico del paese per girare il videoclip della canzone dal titolo La più bella canzone d'amore. Si tratta di un brano inedito, scritto dall'autore italiano Andrea Bonomo, che ha già realizzato brani per grandi artisti italiani come Eros Ramazzotti, Neck, Giuliano Palm, Alessandra Amoroso e tanti altri. Questo brano sarà il nuovo singolo di Matthew Lee tratto dall'ultimo album Piano Man uscito il 19 gennaio. Una grande soddisfazione avere il talento di Matthew Lee nel nostro abitato, commenta così il sindaco Vincenzo Pascale. Avere qui Matthew Lee certamente contribuirà ulteriormente alla promozione del nostro borgo. Il suo videoclip con lo sfondo di Satriano di Lucania non può che fare bene al nostro territorio da un punto di vista turistico. Un paese già molto conosciuto che oggi conclude il primo cittadino diviene anche meta per grandi artisti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese. Attenzione e buon proseguimento di giornata.